Per la rassegna Flescia di oggi, martedì 1 novembre 2021, iniziamo con la campagna dove conferma l'obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie. Salvini al PD, siamo su scherzi a parte, letta dare ragione ai negazionisti del Covid e il peggior inizio possibile per il governo. Atletari, forma carta via, scatta il rinvio fino al 30 di dicembre, Sergio Mattarella, la pace va pazientemente costruita e garantita. Estero, IRA, ancora resti di massa, studenti e giornalisti presi di mira dal regime. Oslo, è la più green del pianeta. Questo è molto altro su Notizie in un clic, io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e vi do appuntamento alla prossima rassegna Flescia. Grazie ancora, Loredana.